In primo piano il bollettodino Covid di oggi, martedì 18 maggio 2021, ebbene sempre meno casi, boom di guariti, ma per i particolari ci colleghiamo con la nostra Marina Moretti che si trova davanti al Paladin Martin di Montesilvano. Buonasera Marina. Buonasera a te Massimo e ai nostri telespettatori. Sì, con Andrea Berardinelli, come hai detto, mi trovo proprio davanti al Paladin Martin. Abbiamo scelto questo scenario questa sera perché ci saranno arrivate diverse segnalazioni da Montesilvano rispetto alle file per le vaccinazioni. Si sono registrati dei momenti un po' complicati nel pomeriggio. Voglio anche aggiungere che qui di solito fila tutto abbastanza liscio, spesso è stato portato anche un po' a modello. Quindi sono eccezioni che possono accadere perché sono accadute. Intanto si sono bloccati i computer, la linea internet non c'era, quindi fare le schede di tutte le persone che erano state chiamate per essere vaccinate, circa 600, è stato più complicato. Poi ci sono stati degli smaltimenti di AstraZeneca ma invece si manteneva la fila sul Pfizer-BioNTech che deve essere comunque ricaricato perché non sono tutti qua i 600 vaccini. Vanno presi e riportati più volte nella giornata, nel pomeriggio e quindi alcune persone si sono arrabbiate perché vedevano che da una parte la fila andava più liscia, dall'altra no. Ma in realtà insomma anche qui c'era un motivo logistico. È durato un paio d'ore questa situazione di disagio. Adesso come vedete tutto è tornato alla normalità. Voglio anche aggiungere che ci segnalavano sempre dalla protezione civile che mi ha fornito queste informazioni che c'è anche gente che arriva un po' troppo presto rispetto all'orario. Per cui magari se devono arrivare a un certo orario e si presentano un'ora prima la fila si ingrossa e quindi si creano complicazioni. Comunque tutto è tornato alla normalità qui al Palafiere, al Paladin Martin di Montesilvano e allora è il momento di parlare dei dati Massimo. Come hai detto tu poco fa, insomma hai già riassunto le cose principali. La cosa principale che mi viene proprio di sottolineare sono questi 33 casi, 33 in tutto Abruzzo. Sono davvero pochi finalmente le età dai sei mesi agli 85 anni e ci sono comunque tre decessi di età compresa tra i 69 e i 96 anni. Uno in provincia di Teromo e due in provincia di Pescara. Ci sono però anche 493 nuovi guariti che si aggiungono e che portano il totale dei guariti fino adesso a 64.421. Dunque dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti più di un milione di tamponi ma oggi la percentuale che sto per dirvi che è davvero bassissima e finalmente si vede uno zero davanti cioè 0,6 la percentuale dei tamponi risultati positivi rispetto al numero di tamponi fatti è davvero credo una delle più basse insomma degli ultimi tempi sicuramente 0,6 per cento su un totale di circa 6.000 tamponi il tasso di positività. Sono 199 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva rispetto a ieri meno 3. Sono 18 in terapia intensiva rispetto a ieri anche meno 3 e sono 6.197 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'Asle. Io ormai parecchi giorni mi è capitato di fare questo turno e quindi di fare il bollettino serale e devo dire che insomma questi dati davvero non mi capitavano da tempo. Siamo partiti che complessivamente in Abruzzo c'era un tot di positivi e adesso siamo veramente scesi. Di questi casi c'è da dire che 8 sono nella zona dell'Aquila, 6 in quella di Chieti, 5 in quella di Pescara e 14 in quella di Teramo. Questo è il riassunto del bollettino che come sempre ci è stato fornito dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo. Massimo, la Peralina.